Sono arrivati gli LP di zucchero, poi già lì, guarda, che vediamo, questi sono quelli che dobbiamo vendere in Arena di Verona, credo proprio di sì, adesso lo guardiamo, parlando con, com'è che si chiama, Alice com'è che si chiama il grafico di Orca, Miserioni e teo, steo, 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 ah però, bello, Arena di Verona, Colored and Amber Limited Edition, dai che lo apriamo che sono curioso, sono curioso curioso, allora l'LP cosa serve per ascoltare l'LP, il lettore di LP alias 33 giri, il lettore di LP, ah però, non è che si prenda così come in Gigi, perché sono un po' scomoli, bisogna trattarli perché qua il vinile è molto delicato, sì, perché queste robe non le sai, ma, no, allora, serve un giradischi, famoso ho detto di giradischi, di giradischi, si appoggia, c'è un pernino che mette lì, poi c'è la selezione select 45-33, questo è un 33, ok, il 45 giri, era più piccolo, era più piccolino, girava molto più velocemente, si appoggiava, si appoggia, attualmente la puntina qua, molto delicata, e riproduceva il suono, credo che la differenza tra l'LP, quindi il vinile, e i cd digitali sia la pastosità del suono, che è molto più morbido, i bassi sono più, mentre invece con la cd digitale, stum, 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 dai, prendi su che andiamo a fare le foto, va bene, ok, prendi su tutti, armi e bagagli, prendo la schedina, ok, dai, andiamo a fare le foto, dai, che così pubblichiamo subito, 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 andiamo, va, allora, ok, prendi quello senza copertina, in modo tale che, senza, senza, senza il cellophane, che così, senza cellophane, non fa riflesso, non fa riflesso, ah, toglia, ah, si, giustamente, ah, però dopo così si toglie il bollino, vabbè, vabbè, dai, ok, allora, me lo mandi tutto avanti, così, abbassati, 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 allora, io vengo indietro, aspetta un attimo, facciamo lo shooting, facciamo lo shooting, squintalo un po', e così vediamo se, dopo gireremo la foto, giralo un po' così, perché sta prendendo una luce così, perfetto, ok, aspetta un attimo, ok, fai vedere l'LP, ecco, si apre, si apre, si apre, fantastico, fantastico, visto che è roba, è veramente, va sul punto, arriva in luce, perfetto, squintamelo addirittura, ancora, 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 abbassati, 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 lì, e faccio una un po' più satura, e ho fatto un lavorone, dopo mi fai vedere la copertina dietro, perché mi diceva che, però giramela dietro, fammi vedere la copertina dietro, eccola lì, eccola lì, no, se la manca così, abbassati, 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 abbassati ancora, ecco, così riproduciamo, arrivo, eh, tolgo un po' di saturazione, un po' troppo, ok, prendi l'LP, assieme a quello, quello facciamo vedere, vai vai, prendilo pure tranquillamente, tanto non è che, prendi anche la copertina, tutto, questo, tutto, se ce la fai prendere tutto, si, guardiamo come, si, come, prende tutta la signora la mano, ah, qui, sarà anche così, proviamo, lo mettiamo, cosi, ok, 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 guarda in giù, guarda in giù, guarda in giù, guarda in giù, ti metto in campo, sorriso d'Urbans, sorriso, eccola quella qui, faccio un po' più satura, aspetta un attimo, vediamo un po', voi là, ci accontentiamo? devi, sì, sì, ok, oh, magari dopo ce l'ascoltiamo, eh, sì, sì, sicuramente,